napoli real madrid o salvio come stai sarà tutto a posto napoli real madrid allora tutti bene in casa napoli 433 ignorante va bene andiamo ma solo solo li vedo li vedo e benvenuti all'incontro di oggi napoli real madrid si parte quara palla per lobotka attenzione lobo rientra lobotka va dentro un po' troppo lento maradona palla per caraschelia va di tacco da lukaku vandik riparte lobotka break di lobo attenzione lobo lobotka dentro per lukaku la parata miracolosa di can ciao che fra e se ti fa piacere rimanco la partita in pace non potete vedere aio fra finché fatica fatica quara schelia va dentro da racmani che prova a tenerla lì non ci riesce la palla arriva a maradona la mette giù maradona va dentro da quara niente da fare e qui fortunatissimo con can che blocca rilancio di can lobotka prova ad arrivare a staccare non ci riesce attenzione ripartono loro palla dentro per dembele grandissimo racmani che la recupera e prova ad appoggiarla lobotka non ci riesce attenzione chissà maradona niente da fare olivera rilancio lungo quara schella riesce a mettere giù anticipato da deco che se lo mangia a colazione attenzione anch'essà quara schella prova a pressare lui non ci riesce palla centrale da maradona vanno da pempe palla dentro buongiorno l'alza ancora per quara schella che appoggia anch'essà scende anch'essà allarga per mazzocchi ma mazzocchi proviamo ad accelerare un po' rallentiamo mazzocchi prova ad andare dentro anch'essà palla per lobotka centralmente da lukaku lukaku fermato lukaku attenzione olivera anch'essà mazzocchi prova a scendere mazzocchi dentro per quara schella clarità mazzocchi che prova a penetrare i dribbling di mazzocchi che l'appoggia a lukaku la palla non passa olivera prova a rientrare sommessi raccmani palla per lobotka che si gira allarga per anch'essà se ne pazza ma anch'essà cerca claraschella sulla fascia sbagliato canna bilancia lungo di canna attenzione buongiorno prova a staccare lobotka mamma mia stare attento a fare ste cazzate sono uscito male qui con racmani torniamo lobo pempe si gira pempe olivera palla dentro e mi ha fatto girare a vuoto ok quara vada lo botka palla per mazzocchi l'appoggia l'anghissà centralmente per quara schella ma ancora da mazzocchi mazzocchi dentro per quara schella che si gira quara schella prova a tirare attenzione anchhissà anchhissà prova il dribbling zambo anchhissà in area di rigore anchhissà rientra poggio per quara incredibile buongiorno palla per lo botka allarga per mazzocchi attenzione mazzocchi aspetta mazzocchi ancora mazzocchi dentro per quara di tacco ma lukaku penso è andato in fuorigioco canna mamma mia freddissimo lui in questo caso maradona attenzione diego prova a chiudere lo botka palla per rakmani anchhissà si ferma zamanchhissà cerca adesso quara schella quara schella prova a penetrare ma che passaggio è palla dentro se ne va messi anzi fodano mamma mia raccomani chiusura e poi di lorenzo sa per fare una follia maradona lukaku dentro per cavara schella prova a far correre anchhissà niente da fare lo botka attenzione vanno dentro arriva l'obo eh vabbè meret qui ci salva attenzione lo botka qui ce la capiamo un po' ragazzi ce la capiamo parecchio direi con anchhissà che adesso va dentro la cavara schella possiamo andare in contropiede si ne va cavara schella attenzione cavara schella prova a rientrare qui c'è la cavara schella rientra l'appoggia dentro mazzocchi di testa lo botka lukaku si gira sul destro lukaku poi va di sinistro traversone incredibile qua la schella e canna di lorenzo palla per lo botka va centralmente anticipato da teleman attenzione anchhissà anchhissà dentro per quaraschella che penetra sul van dick quaraschella vada anchhissà che si sposta la palla spara la parata di canna cercalo botka anticipato l'opo qui facile facile raccamani prova a chiudere Amir finisce il primo tempo 1 a 0 per lui twitch interdetto ok sta su twitch mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria specialmente nel reparto offensivo attenzione lukaku prova a pressare forte ma ancora lukaku in pressing neanche caraschella pressing asfissiante lo botka anghissà maradona riesce a dare molto fastidio anghissà palla dentro attenzione diego anghissà vanno dentro loro buongiorno palla per lukaku che la stoppa in maniera discutibile palla dentro loro attenzione maradona palla dentro anghissà palla dentro guarda passate 2 a 0 cavara lo botka prova ad andare da di lorenzo rientra di lorenzo di lorenzo palla per maradona vada lukaku si gira lukaku l'appoggia ad anghissà anghissà prova a tirare la palla resta lì fuori gioco fuori gioco di lukaku avevo cavara lì chi cazzo l'ha vista canna rilancio lungo buongiorno prova a prendere posizione ci riesce maradona lukaku non riesce lukaku lo botta non riesce ad andare dentro lukaku buongiorno attenzione chissà tutti a vuoto vado sempre a vuoto non riesco a fare interdizione ragazzi lo botta ricopera palla prova ad andare d'anghissà fermato qui palla recuperata maradona palla da lukaku che va di tacco d'anghissà la ricora zamhissà attenzione anghissà palla per lukaku attenzione lukaku 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 la porta dentro lukaku se la sposta lukaku che arriva a tirare che cazzo ha preso quello che cazzo ha preso questo guarda schelia andrà dammi racmani cavara racmani non si riesce si fa anticipare totalmente davandic attenzione palla dentro di lorenzo torna anche lo botta riusciamo a recuperare mai il pallone ragazzi foden qui palla recuperata poi di lorenzo la mette per maradona scende maradona maradona rallenta rientra diego attenzione maradona provo a capire cosa fare della sua vita maradona va dentro adesso da lukaku si gira lukaku rientra ancora lukaku lo ferma vandic e si fattano i cazzo e allora dentro recuperata dark money lo botta recupera la palla per maradona dentro la palla non passa per lukaku per lukaku passaggio da brivido che rischio dilemans un altro passaggio ben eseguito buona costruzione la alleggerisce dietro non gli ha proprio razza maradona maradona allarga per anghissà che prova a rientrare anghissà porta palla zambu anghissà anghissà fino in fondo l'appoggia a maradona si dice vogliono i cambi ma questo difende in maniera allucinante difende in maniera allucinante non mi fa passare mai serve gente che dribbla più facile vai dopo pure stanco dentro billy e spino vabbè almeno ci proviamo canna rilancio lungo di lorenzo prova a staccare la palla è per maradona 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 la mette giù diego maradona prova a portare palla maradona va dentro da neres subito dentro la palla non passa attenzione olivera gilmore si fa recuperare questo pallone gilmore dentro per maradona si gira maradona maradona dentro da david neres che l'appoggia dietro incredibile come questa palla non sia passata ragazzi è incredibile gilmore prova a staccare la palla è per politano dentro da david neres si gira neres niente da fare ancora canna rilancio buongiorno ancora a staccare questa volta non ci arriviamo noi palla dentro racmani dentro ancora palla per loro vanno di tacco torna di lorenzo a recuperarla più di una volta ma è sfortunatissimo tiene le manze la mette dentro un calcio d'angolo addirittura ma com'è fisicamente possibile questa cosa un calcio d'angolo il primo ad alto calcio d'angolo vedete il Real Madrid attenzione Spinazzola si va a regolare questo pallone Spinazzola prova a correre palla al piede Spinazzola scende Spina si fa tutto il campo Spinazzola attenzione l'appoggia centralmente per Raspadori che drippla e ancora calcio d'angolo ancora calcio d'angolo Maradona andrà da buongiorno Diego Maradona buongiorno prova a tenerla lì Neres accorcia il risultato David Neres 2 a 1 Neres attenzione esce Gilmore come un pazzo scatenato attenzione Gilmore rilancio lungo proviamo a prendere palla che sfiga qua con Spinazzola non riesce ad andare sul pallone se la va a riprendere Olivera scende per Raspadori dentro per Politano se ne va Politano fallaccio su Matteo Politano ed è giallo e nemmeno rosso e qui chiaramente mi ha fermato per non farmi arrivare in porta Maradona va Maradona Diego Armando Maradona magia di Maradona su punizione palla dentro attenzione Gilmore ci provano loro a rimettere la partita in post story lancia lunghissimo non so chi finisce qua ragazzi pazzesco pazzesco 2 a 2 l'abbiamo ripresa in 4 minuti incredibile pazzesco Maradona che fa una magia favolosa su punizione e pareggiamo anche meritatamente secondo me anche meritatamente guadagniamo anche un punto ragazzi stiamo lì attaccati alla zona 1700 punti mamma mia no